Come quando accompagnava la figlia con lo sguardo che cantava una ragione di più. Mino non smetterà di cantare le sue canzoni come citava il Sanremo del 2002, Redano è un artista e come tale lascerà emozioni, una lacrima in più, per il suo Dio di misericordia, per i suoi amori. Che come la sua luce e quello sguardo trasparente rimarranno con noi per sempre.